Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovanni Liguori, lavoro a Trieste, è stato un piacere essere qui alla clinica Quisisana con Gabriele Antonini a fare tre impianti di protesi gonfiabili Coloplast con accesso infrapubblico, è un accesso molto convincente, sicuramente sarà il futuro, credo che se faranno sempre di più e che tutti quanti dovremo iniziare a fare. I casi erano interessanti, molto complessi alcuni, però c'è stata la dimostrazione davvero che anche i casi complessi possono essere fatti con estesa fibrosi, si possono fare con questa tecnica quindi grazie a tutti, è stato un piacere essere qui